Il questore di Venezia smorza ogni polemica sulla riorganizzazione sperimentale del controllo del territorio, rimandando anzi al mittente le accuse dei disservizi, special lido, dito puntato contro una frangia del sindacato di polizia, il regionale FSP, lo stesso che oggi mi critica e che invece aveva firmato questo accordo, dice Masciopinto. Tutti i sindacati sono stati d'accordo, o i verbali e sono sottoscritti da tutti. Poi uscendo dalla porta uno cambia idea, magari lo viene a dire a chi ha firmato il verbale, non lo va a dire ai giornali. Contestato due giorni dopo la firma, il programma è obsoleto, con pochi uomini sul territorio, special lido, dove con la mossa del cinema alle porte, oltre a non essere garantita la presenza della volante con i suoi genti sull'isola, per raggiungere la stessa, per servizio, i poliziotti sono costretti a farlo prendendo il vaporetto. Un'assurdità, così la contraaccusa del sindacato di polizia. Sperimentazione che doveva servire ad aumentare le forze e la polizia di Stato sul territorio, ma che sta sortendo l'effetto contrario. I poliziotti devono stare in mezzo alla gente ed essere visibili la secca replica del capo della polizia. I cittadini in questo momento di crisi storica dovuta al Covid ci vogliono più vicini, ci vogliono per strada, vogliono vedere la polizia. Io sostengo che nei momenti difficili l'abbraccio delle forze dell'ordine è un elemento importante. Ma il sindacato non ci sta e scrive niente meno che al prefetto. Se anche il signor prefetto e il sindaco di Venezia non riusciranno a fermare questa sperimentazione, ripeto, fallimentare, noi ovviamente agiremo di conseguenza e passeremo le vie di fatto, denunciando le eventuali violazioni contrattuali al giudice del lavoro e chiederemo alla politica nazionale di predisporre anche delle interrogazioni parlamentari. A proposito, alla 77esima mossa del cinema, per il cospicuo numero di uomini della sicurezza ha anche una novità. Abbiamo istituito una struttura sanitaria della polizia pronta per gestire tutti gli aspetti e le problematiche connesse a tutto il personale che sarà impiegato, che sarà un numero molto molto consistente.